Io trovo ottimo che l'Italia abbia un atteggiamento costruttivo nei confronti delle proposte della Commissione e abbia presentato ulteriori proposte di misure per un'ulteriore correzione per il 2015. Io non posso adesso prevedere quale sarà l'esito finale. In ogni caso saranno i servizi a valutare la qualità delle misure proposte dalle autorità italiane e una volta che avremo anche le proiezioni per l'autunno potremo operare la valutazione finale della situazione dell'Italia. Analizzeremo anche le regole del deficit e del debito perché deficit e debito sono strettamente interconnesse e poi saranno i servizi della Commissione a operare la valutazione finale. Secondo, le nostre migliori conoscenze valuteremo la qualità delle misure previste e cercheremo di capire quale sarà l'evoluzione del debito in ogni Stato membro. Io non vorrei adesso entrare nel dettaglio della situazione dei vari paesi dell'area Euro, ma i progetti di bilancio riguardano l'anno prossimo e quindi siamo ancora in classe di valutazione. Grazie.